Gigi, Cotichella, educa animatore, anche per te divertirsi e far divertire è una cosa seria. Tu come ci sei arrivato a questa convinzione? Oppure sei partito da questa convinzione per essere un buon educa animatore? Io sono partito da questa convinzione tutte le volte che mi sono reso conto che quando una persona soffre o affronta un problema, se a un momento in cui un sorriso se ne stacca per qualche secondo riesce a trovare delle risposte e riesce a capire, a vedere una strada. Quella è la mia convinzione più profonda, è quello che mi spinge poi a farlo entrare dentro il mio lavoro continuamente. Allora, da otto anni, come ci ha raccontato Gigi, la sua vita è legata ad Anima Giovane, sorella minore di Altre Si, una cooperativa sociale che vuole unire creatività e relazione e la cooperativa, se non sbaglio, è la scuola di teatro, arte e relazione. Vero Gigi, o sbaglio? No, la cooperativa è Anima Giovane, la scuola di teatro, arte e relazione è uno dei servizi che offre per cercare di insegnare quella che è stata la nostra ricetta per questi anni. L'idea di fondo è di dire che la creatività, come anche il sorriso ne fa parte, può stimolare la voglia di relazione, può aiutarla, può sostenerla. La prova, avete fatto vedere le immagini di Colonia 2005, la prova è proprio come quando anche una piccola animazione, una grande animazione o una risata possa unire tante persone per farle sentire più vicine. Dopodiché c'è tanto altro dietro, è chiaro, però è un grande passo avanti. Tu perché ti trovi a Padova in questo momento Gigi? Mi trovo a Padova perché una parrocchia di Padova, il suo parroco Don Luca, ha chiesto di fare un progetto molto particolare, un progetto che lui conosce e che noi facciamo a Torino, un progetto di animazione di un parco cittadino per adolescenti durante il periodo estivo. Tra l'altro un parco con una zona malfamata che ha una certa situazione, una certa serie di problemi, tra cui anche storicamente zona di spaccio. Gli anni fa abbiamo iniziato, ogni anno quando arriva questa attività che si chiama Estado, che porta sport, animazioni, feste, eventi, giochi, attraverso tutto quello che può essere attività informale, lo spaccio si allontana. Questo parroco era ad est, voi state vedendo le immagini di Estado, come è stato ribazzato l'anno scorso, una scommessa vinta perché si aspettavano al massimo una sessantina di ragazzi, i ragazzi sono stati in media 120 ogni giorno e hanno attivato di tutto e di più. Ecco lì un'ennesima prova che non solo ridere è una cosa seria, ma proprio divertirsi è uno star bene, uno star bene in maniera creativa. Gli stessi ragazzi hanno realizzato il video che vedete attraverso un laboratorio appunto di video. Gigi, ma tu quando è che hai capito che la strada dell'educanimatore potesse essere la tua vera strada con la quale metter su famiglia, come si diceva una volta? Allora, è successo quando, io ho studiato teologia, poi sono venuto a contatto con il mondo del sociale, ho lavorato per qualche anno con le tossicodipendenze ed è successo proprio in una scuola, nel lavoro della prevenzione, i ragazzi non ascoltavano più i soliti metodi di dire un elenco di sostanze che danno un tot di danni e così via. E ci siamo resi conto che tutte le volte che facevamo, come dire, magari un modo più informale, superavamo le solite barriere e andavamo, diciamo, a toccare quello che interessava i ragazzi, magari con una battuta spiritosa, però andando veramente alla sostanza delle situazioni, di quello che volevamo dire, c'era più ascolto. Con gli anni studiando, non è una teoria così, anche all'Accademia Nazionale del Comico dicono che la prima cosa per far sorridere è avere qualcosa da dire, non la battuta, ma avere una sostanza da raccontare, una storia, un messaggio, dopo viene tutto il resto, la tecnica, la battuta. Lì ho capito che riuscire a comunicare in questo modo poteva essere qualcosa che all'inizio mi appassionava, poi è cominciato qualche sorta di lavoro, poi è entrato il mondo del lavoro nel divertimento. E oggi è richiestissimo, perché pur essendo un business altissimo è sempre più difficile far divertire, perché ci si dimentica che il divertimento vero richiede la relazione, il divertimento vero richiede star bene. Su Facebook i ragazzi non condividono soltanto i video che fanno ridere, condividono una marea di video che fanno piangere, fanno riflettere. E questo significa che allora il divertimento è anche poesia, il divertimento è anche serietà. Tu che hai fatto esperienza di quattro mesi in Kenya, proprio a Nairobi, nell'Anairobi di Don Pietro, anche tu hai notato il fatto che in Africa si ride in modo diverso e per altri motivi. Sì, sì, in Africa si ride in modo diverso, si piange anche in modo diverso. È proprio un alteggiamento completamente diverso. Sono molto più... non saprei neanche trovare l'aggettivo esatto. Noi siamo forse più intellettuali, no? Gigi, anche tu come educa animatore, come operatore del divertimento, passami questo termine, hai trovato difficoltà in contesti abbastanza forti e difficili, come potrebbe essere quello che ha vissuto Giovanni tra i terremotati in Abruzzo. Sicuramente, anche perché c'è un altro aspetto anche della risata, che è lo scetticismo, che è come un'altra faccia della sofferenza. Cioè, la risata aiuta anche a buttare giù delle barriere, che siano barriere costruite perché si soffre, o siano barriere costruite perché non ci si fida di chi sta parlando. La risata ha questo potere qui, la risata ha il sorriso. Allora, per me la difficoltà più grande è quando entriamo nelle classi, nelle scuole, facciamo delle proposte, delle proposte di laboratorio, ma proposte anche molto forti, tipo di cittadinanza attiva, percorsi di sensibilizzazione all'impegno civile, piuttosto che percorsi di impegno al volontariato per creare dopo scuola nelle zone che insomma hanno queste richieste. Allora, la prima parte della cosiddetta risata, sorriso, serve proprio per cercare di costruire un ponte che unisca me e l'altra persona, che è quello che diceva Giovanni, cioè la capacità non è tanto di far ridere, ma in realtà è di porsi in relazione. In certi contesti, con un gruppo, con delle situazioni, si fa fare la risata o con la gag del clown, o con la battuta da cabarettista, o con quello che ci viene in mente. Ma in altre, proprio invece, far vedere che c'è qualcuno e qualcosa dietro quello. E allora si rinuncia tranquillamente alla risata e si va sulla sostanza. La difficoltà di oggi è quasi di fermarsi alla buccia, cioè di non voler andare oltre. Credo che quando invece si lavora con e sul divertimento, necessariamente o si va oltre la buccia o non arrivi. Gigi, della tua esperienza in Africa, quattro mesi in particolare in questo slam dal nome Soweto, che richiama le vicende del Sudafrica, Soweto però in Nairobi, in Kenya, con questi tuoi quattro mesi, come te li sei portati dietro anche nella tua preparazione, nella tua formazione, sia Hope Music School e in altre realtà? Ma allora, sicuramente, per me personalmente, quell'esperienza mi è servita per capire che il mio posto era in questa parte del mondo. Io ero andato lì, come spesso capita, convinto poi forse di rimanere o convinto del mal d'Africa. Ecco, il mal d'Africa mi è venuto, ce l'ho nel cuore, certi cieli, certe immagini non andranno mai più via. Ma la consapevolezza di lavorare lì, di scoprire che cos'è la povertà, la povertà assurda, la povertà senza senso, la povertà nata da alcune proprio situazioni, come il dramma dei ragazzi di strada che sniffano colla per superare i morsi della fame e andare avanti, oppure che lavorano scavando dentro le discariche. Ecco, quel dramma di quella povertà lì mi ha fatto capire che c'è un altro dramma di una parte del mondo che fa ancora troppo poco. E' stato questo che allora mi porto dietro come consapevolezza personale. Dal punto di vista professionale, sicuramente la cultura dello spettacolo come evento comunitario, come luogo dove riflettere, in Africa è fortissimo. In Africa c'è veramente quello che noi occidentali è stato il teatro greco, cioè il teatro per riflettere o attraverso la risata o attraverso il dramma, ma il teatro per pensare di migliorare la comunità. Questo in Africa è il pane quotidiano, un re di dire. E questo me lo porto dietro tutt'oggi. Ci ha scritto sulla nostra pagina di Facebook Francesco Regaglio, anch'io sono d'accordo, bisogna essere contenti dentro. A proposito di questo contenti dentro, guardate un po' com'è sulla scena il nostro Gigi. Basta! Fermi! Ferma per un attimo! Fai una cosa che non hai mai fatto! Fai questo! Prova a spegnere la televisione! Stacca un po' il cellulare! Rallenta la macchina E copri per un minuto l'orologio Senti che pace! Se adesso Dio parla, tu lo puoi ascoltare Insomma, una lezione per ascoltare E' uno simono per ascoltare il silenzio di Dio Eh Gigi? Sì, sì, sì. Ecco, quello Sfewo è una... Come dire, come avviene a costruire il modo di dire cose anche importanti In modo animato, ecco. Lì è tutto nato, è un gioco che ovviamente dura molto di più Quella è la parte finale In cui si fanno dire, si fanno fare dei gesti al pubblico legati a delle parole dentro una storia Che in quel caso è una televisione, il cellulare, l'orologio e la macchina Che diventa sempre più caotica La gente non riesce a fare tutti questi gesti Si agita Finché a un certo punto il fatto di rallentare, di spegnerli uno a uno Ti fa creare quella sensazione di serenità E lì, nel momento in cui nessuno si aspetta più Dire che se adesso Dio parla tu puoi ascoltarlo Che era la premessa Ma Dio ci parla Ed è stato un capovolgimento totale, no? Quella è una prova di come Non è l'unico canale che si deve usare Ma di come a volte la risata e il sorriso riesce a far arrivare Prima e di più alcuni contenuti forti Dopodiché Dopodiché ci va, ripeto, il momento in cui Questo di più viene aperto, allargato Ma di solito non si fa in uno spettacolo Si fanno in altri contesti, ecco Ma in quell'occasione lì il personaggio che interpretavi Aveva un nome? Lì ho fatto un lavoro molto simile Penso a quello che Giovanni ha fatto Quando ha creato il suo Clown Ops Ma lavorando su qualche cosa che facesse dire subito Sono io, no? Ma non sono io, no? La scelta di non essere Di non avere un vestito da clown È una scelta personale Non c'è niente di male, niente di bene È una scelta I guantoni La cravatta catarefrangente Io li uso sempre E servono per dire Sono una persona normale Ma sto facendo qualcosa di anormale E creano così Una specie di Chiamiamola di complicità Senza creare quell'imbarazzo Anche se molta gente oramai mi dice Porto i guantoni E credo che se mandassi i guantoni senza di me Sarebbero contenti lo stesso Ecco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti